Il cartello sulle transenne che delimitavano la zona riservata era chiaro nel messaggio. La città di Fano chiude al traffico le strade per regalarle alle bambine e dai bambini. Protagonisti indiscussi loro e la loro voglia di giocare, saltare, sperimentare e conoscere. L'affluenza è stata massiccia, complice sicuramente la domenica soleggiata, e la strada si è trasformata in una distesa colorata di famiglie, musica e grida gioiose che per un attimo ha ricordato il Viale Gramsci di carnevalesca memoria. È una grande festa, sono già migliaia le persone che stanno arrivando in Viale Gramsci e al Pincio. Del resto ci sono oltre 90 tra associazioni, scuole che stanno animando con attività e laboratori questa città da giocare 2016. Un ottimo risultato che ci aspettavamo di questa giornata ma anche di un intero mese di eventi che abbiamo messo in calendario anche per celebrare i 25 anni della Fano città dei bambini e delle bambine che tra l'altro nel prossimo anno andremo a strutturare ulteriormente perché l'obiettivo è non far vivere questo progetto solo un giorno all'anno ma farlo vivere tutti i giorni e quindi una serie di progetti sperimentali che vedranno protagonisti i quartieri a partire da quello di Sant'Orso proprio perché vogliamo portare questo progetto fuori dai confini delle scuole e farlo vivere per tutta la città. A loro disposizione avevano un chilometro di associazioni sportive, laboratori creativi con materiali naturali, mostre tematiche ed eventi collaterali. Dalle 15 alle 20, Viale Buozzi, il Pincio e Viale Gramsci erano territorio loro e della città da giocare 2016 un'edizione di rilancio e di grande impegno per l'amministrazione sul tema la città dei bambini e delle bambine. Grande soddisfazione perché veramente c'è tanta gente, tante associazioni quindi a dimostrazione che abbiamo colto nel segno questa iniziativa apprezzata ma soprattutto che hanno colto anche il significato vero di questa iniziativa e dico subito che già dal prossimo anno estenderemo questa cosa anticipandola con dei momenti nei singoli quartieri.